Faccio i nomi, Buscetta. Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io? Io rinnego questo nome, io rinnego Tommaso Buscetta! Non ci sono intoccabili. Non mi fa intenda, ma ha più paura dello Stato che della mafia. Onneto! La sei sale! Onneto! Io sono stato e resto un uomo d'onore. Sono loro che hanno tradito gli ideali di Cosa Nostra. Per questo io non mi considero un pentito. Per questo io non mi considero un paese di Cosa Nostra. Ci sono tutti uguali stentati e i tanti. Io sono proprio amico d'abge, ma anche io non mi sono forti. Per? Per?